Ciao ragazzi! Bentornati su Mega Wow! Come state? Scusate, è che mi viene da ridere! Ma non voglio ridere! Meno male che non hai coriandoli in bocca! È che oggi Cinzia ha organizzato uno scherzetto alla sua nipotina Aurora e giocheranno a... la scarti o lo passi? Scusa, sbagliato! Giocheranno a... lo scarti o lo passi? E Cinzia ha preparato dei pacchetti regalo ma Aurora potrà scegliere di ritenerne solo alcuni potrebbero capitare quelli con dentro delle cose molto carine ma altri contengono delle cose orribili No, non voglio ridere, povera Aurora Vai Cinzia! Ehi, ciao a tutti! Ciao, Happy! Guarda con chi sono! Vabbè, lo sai già Sì Perché ho organizzato per Aurora un giochino molto carino Aurora si è tipo appena svegliata però appena ha sentito regali! Si è alzata subito ed è venuta qua Io lo scarto o non lo scarto ma la tua giochino inizia Esatto quindi lo scarti o lo passi è il gioco di oggi Guardate Mi piace il gelato Che gelato Sono dieci pacchetti e quindi dovrà aprire cinque regali e passarne a me cinque quindi devi fare una Buongiorno Dovrà scegliere bene quindi cinque tu e cinque io Va bene? Iniziamo? Sì! Partiamo con Scelgo io con cosa ovviamente Questo Ma è brutto o bello? E questo Tieni Guardalo E devi scegliere in base a come lo vedi Se lo vuoi scartare o lo vuoi passare a me Lo vuoi scartare Lo vuoi scartare? Ti sembra bello? No Non ti sembra bello? Però lo vuoi scartare lo stesso? Sì Considera che ne puoi scartare solo cinque Gli altri cinque li devi passare a me Quindi scegli bene Lo passo a te Lo passi a me questo? Me lo passa Quindi il primo me lo passa a me E lo apriamo subito? Sì Pronti? Sì Apriamo Che cos'è? È il pirata popò Il gioco del pirata popò Ci giochiamo Eh ma questo l'è passato a me Quindi il mio Hai capito? Mi giacchia da sola Ci sono le spade Si mettono dentro E il pirata Piuu Poi una partita ce la facciamo Dai Va bene Il pirata popò è mio Primo regalo Secondo pacco Questo Un gelato Lo vuoi aprire Oppure passare alla zia? A me Sì sì Quel pacchetto mi sembra buono Lo vuoi aprire? Sei sicura? Pensaci bene? Sì È sicura Vai Apri Apri Scartaforte Non ci riesco Ecco non ci riesce Cos'era? Cosa sono? Le bolle delle brindiverse Mi piace Si? Prova a fare una bolla Non ce n'è Oh nooo Però non ci sono le bolle Che gioco è? Eppure è rotto qui Dove? Oh Hai fatto una scelta brutta allora Non fa niente Non fa niente Va bene Questo è tuo Non fa niente Cinzia questa non te la perdonerà Passiamo alla prossima Sì Va bene Apriamo questo Lo passi O lo scarti? Lo scarto Lo scarta Dai Aurora Una lol Come chi ha detto Come chi ha detto Quindi Adesso Aurora Ha fatto la scelta giusta Brava Aurora Che bello Sono la pavolina Prossimo regalo Vediamo se Vuoi scartare No Aurora Attenta Quel pacco non mi ispira Lo vuoi scartare Allora sei a tre Stai scartando Questo è il terzo Poi te ne restano altri due Da scartare Sei sicura? Lo vuole scartare Che cos'è? Mi piace Genica Per mia mamma Per sua mamma La carta igienica E mi piace Ma ti piace cosa La carta igienica? Ok Le piace Brava Non si lamenta La carta igienica La usiamo? Sì In bagno Andiamo col prossimo Ti ricordo Due Che devi scartarne i due Gli altri li devi passare a me Ne restano uno Due Tre Quattro Cinque Sei Scartarlo? Sì Pensaci bene Perché te ne restano due Poi c'è questo grande Questo piccolo Questo piccolo Questo piccolo Questo piccolo Questo piccolo Ci sono questi E poi li scarto tutti io? Sei sicura che vuoi scartarlo? No Pensaci bene Lo vuoi scartare O lo passi alla zia? Non guardare A me me lo vuole passare Che cosa sarà mai? Tu cos'è allora? Lo spazzolino da denti Te l'ho detto Te l'ho giusto Cosa mi ha detto Va bene Va bene Ci hai pensato bene Grazie per lo spazzolino Ne restano due Sì Grazie Vuoi aprire questo? È gigante Scuotilo Fa rumore? Oh È pesante? No 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 Ma sicura lo vuoi Lo vuoi aprire O lo vuoi passare? Aprire No 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 Lo vuole aprire È una caramellina Gigante Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Il mio papà è questo Ce lo regali al mio papà Ah glielo regali al tuo papà? Sì Guarda cosa c'è dentro Oggi aggiusta la nostra luce Guardate Guardate sono viti Chiodi e quant'altro E lo regala a suo papà Ha detto Quindi finora Aurora ha scartato Le bolle vuote La lol Cioè ha scartato più regali brutti che belli Ma niente fa Niente fa? Niente fa Se sono tutte brutte lì Qui è rimasto qualcosa di bello Ti resta un regalo solo Il prossimo Lo scarti o lo passi alla zia? No Sei sicura Aurora? Ti resta l'ultimo regalo? Lo passa a te Lo passa a me E' l'ultimo Ma lo scelgo io Sono rimasti tutti i regali belli Tranne uno Non lo so ma cosa c'è dentro E non si vede cosa c'è dentro Passi alla zia questo? Sì? Non mi sembra convinta Apriamo Oh oh E' bello E' bello Però ci giochiamo insieme Ci giochiamo insieme Sono i didò Tipo Vediamo cosa c'è qua Guardate Guarda E' la pasta Pasta modellabile Tutti i colori Tutto come Dipende se il regalo ti piace o no Questo Lo vuoi aprire o lo passi alla zia? A me? Sì Ok Apriamo Come la mia amica Wow Happy No è un unicorno Happy è un unicorno Happy Guarda E' più un tuo simile E' fichissimo Adesso Vuoi scartare Questo O lo passi alla zia? Pensaci Lo vuoi tu O lo passi alla zia? Ci sta pensando tantissimo Lo vuoi scartare tu? Sì Hai l'ultima possibilità Lo vuoi scartare lei Lo vuoi scartare lei Oh Che bello Ma che cos'è? Wow E' il laboratorio del morbido E l'avevo detto che non era brutto Brava E questo è mio? Sì Aiuto E' un cacciavite E' un cacciavite Vabbè E lo regalo a mio padre Cosa devi venire con questo tuo padre? Cacciavite Ci sistema la luce Quindi questi sono i regali scelti da Aurora Tu ne hai due No No Tu ne hai due Tu hai scartato due regali su cinque belli La lol e bella La carteggienica? Bella Ah è bella? Sì perché è profumata Ma la vorresti come regalo? A Natale? O per il compleanno? No Ecco quindi non è un bel regalo No Però è utile E' un regalo bello per te? No per papà Per papà sì ma per te no No Quindi no Solo per i grandi Ecco E le bolle vuote? Mia mamma me lo mette dentro Ah ok Poi Il regalo più bello secondo me Oltre alla doll Sì bella Il laboratorio del morbido Do L'acqua c'è l'acqua Yeah Yeah La zia cosa ha ricevuto? Quindi se lei ha ricevuto due regali su cinque belli Io ne ho ricevuti tre su cinque belli La pasta modellabile Il cacciavite Brutto Brutto Lo spazzolino Utile ma No E l'hai buttato Il pirata popò Bello Si chiama pirata pazzo L'unicorno Ed è bello Ti lavi i denti No è il mio No è il mio Lo ho ricevuto io No io Va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Che c'è? Niente si vuole lavare i denti Io e Aurora vi salutiamo Ciao Ti sei divertita? Si sta lavando i denti Si sta lavando i denti Ci vediamo al prossimo video noi Ditemi giù nei commenti quale pacco avreste aperto voi Salutiamo Epi Ciao Epi Mi raccomando continuate a seguirci su Mega Wow Ciao Epi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Andiamo a giocare Ciao ciao Ci giochiamo Andiamo 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 Che spasso Dai direi che Cinzia non è stata troppo cattiva Brava Aurora Te la sei cavata benissimo Ragazze Insieme siete fantastiche Mi fate crepare da ridere E voi cosa ne pensate? Quali dei pacchetti di Cinzia vi sarebbe piaciuto ricevere? Scrivetemelo nei commenti A domani ragazzi E iscrivetevi al canale Ciao